Da quando hanno lasciato la famiglia reale, il duca e la duchessa del Sussex, hanno perseguito vari progetti e grandi accordi di intrattenimento. Con vari livelli di successo, il principe Ferri e Meghan Markle, potrebbero avere le piume arruffate durante il loro periodo di lavoro con Netflix, secondo una fonte, dopo un periodo turbolento nelle loro fortune, mentre il loro contratto da 15 milioni di sterline, con Spotify volge al termine. La coppia ha prodotto nuovi contenuti per Netflix con due progetti imminenti dopo che la loro docuserie, Ferri e Meghan, ha portato un numero enorme per la piattaforma di streaming lo scorso dicembre. Si è persino parlato della vittoria della coppia di un Emmy per la serie, che aumenterebbe ancora di più il loro profilo negli Stati Uniti. Tuttavia il loro resoconto della loro relazione e della vita come reali che lavorano potrebbe averli portati a rivelare troppo di se stessi, con alcuni che suggeriscono che potrebbero aver bisogno di riconsiderare il loro marchio per andare avanti con successo. Una fonte di Netflix ha dichiarato alla rivista Closer. La più grande paura dal punto di vista di Meghan e Ferri, è che quest'ultima controversia e critica possa essere la goccia che fa traboccare il vaso quando si tratta di ciò che il pubblico pensa di loro e di quanti soldi possono guadagnare. Le cose potrebbero dover cambiare per quanto riguarda le apparizioni congiunte. E certamente sembra che colpire insieme i reali sia fuori dall'ordine del giorno ora per il prossimo futuro. Hanno aggiunto che la coppia aveva le piume arruffate durante il loro periodo a Netflix. Dicendo, Ferri non è un problema, ma Meghan pensa di sapere come gestire Hollywood. Sebbene le loro docuserie, si concentrino principalmente sulle loro vite personali, le loro due produzioni imminenti si stanno allontanando dalla vita reale, e mettono in mostra voci diverse. Il loro tanto atteso documentario Art of Invictus dovrebbe essere rilasciato su Netflix ad agosto, con il programma che segue i membri delle forze armate feriti, e malati, mentre competono per prendere parte agli Invictus Games, ideati dal principe Harry.